Un punto a testa, quello maturato oggi al Pier Giorgio Reali di Montone. Un pareggio infatti quello tra Montone e Santa Sabina che non fa contenta a nessuna delle due squadre. Grande festa però per i padroni di casa per l'inaugurazione della nuovissima tribuna coperta. Al decimo minuto arriva la prima occasione per gli ospiti, con Santa Nicchia che calcia alle stelle una grandissima palla di Giacchettini che aveva praticamente spalancato la porta. Al diciannovesimo anche il Montone va vicino al vantaggio, con Simone Mortaro ben trovato da Fodaroni, che cerca di beffare Bucari con una gran bella conclusione di controbalzo che si spenge però alta sopra la traversa. Queste sono le uniche due occasioni di un primo tempo abbastanza fisico che si è sviluppato soprattutto a centrocampo. Il secondo tempo ricomincia subito con il Montone vicino al vantaggio, con Mortaro che sfrutta l'errore di Paciosi per recuperare palla e mettere in mezzo un gran pallone che però nessuno riesce a deviare in rete. Al diciannovesimo i padroni di casa tornano a bussare alla porta di Bucari con questa conclusione alta di Mortaro ben servito da Ubaldi. L'occasione più importante però ce l'hanno gli ospiti, prima con una gran conclusione di Vazzana che chiama a tassi un grande intervento per mettere la palla in angolo e successivamente con Farrucu ben trovato da Bura che sbatte solamente su un grande tassi che questa volta deve avere la palla in angolo. Ma le emozioni non sono finite qui perché al quarto minuto dei cinque concessi dall'arbitro Maio di Perugia ci sono grandissime proteste degli ospiti che reclamano un calcio di rigore per questo intervento di mano in area di Ceppodomi. Con questo pareggio il Montone sale dunque a 24 punti mentre la Santa Sabina sale a 31, ben salda al terzo posto in classifica. Claudio Missaia, un Montone che si è reso abbastanza pericoloso e che in una partita comunque abbastanza complicata giudica questo pareggio in modo positivo oppure abbastanza negativo? No, no, sono contento della prestazione sotto l'aspetto mentale dopo la prestazione brutta di domenica siamo mancati un po' davanti, abbiamo sbagliato qualche scelta, abbiamo sbagliato qualche ultimo passaggio però sono molto contento di come abbiamo approcciato la gara che comunque giocavamo contro una squadra che è terza in classifica non è lì per caso, ha dei valori, però era importante una risposta soprattutto mentale alla partita di domenica penso che la risposta c'è stata, dobbiamo migliorare come devono migliorare tutti e piano piano collaborando si migliora però sotto l'aspetto mentale ripeto è stata un'ottima partita, una buona partita concentrati al primo minuto al rispetto di domenica che siamo partiti bene cinque minuti e poi abbiamo mollato invece oggi credo che il pallino del gioco anche se non siamo stati pericolosi l'abbiamo avuto quasi sempre noi hanno fatto un tiro in porta su una ripartenza, però andiamo avanti così Alessio Talli, un gran bel Santa Sabina quello visto oggi, c'è il rammarico di non aver portato a casa i tre punti anche vista l'ultima azione dubbia con il calcio di rigore non concesso? No, no, io oggi mi prendo questo punto e me lo porto a casa ben volentieri perché sapevamo di affrontare una squadra forte, qual è il montone organizzata, ben messa in campo e quindi sapevamo che la partita sarebbe stata difficile, c'è da fare i complimenti ai ragazzi perché veramente hanno fatto una grande partita, si sono applicati, l'abbiamo preparata bene durante la settimana nonostante avessimo tante defezioni perché ci mancava tutto il centrocampo ragazzi che si sono adattati a fare un ruolo meno congeniale alle loro caratteristiche l'hanno fatto anche bene è vero che in alcune situazioni siamo ripartiti bene, potevamo anche andare in vantaggio però è anche vero che, ripeto, di fronte abbiamo una squadra forte e quindi alla fine ci prendiamo questo punto e ce lo portiamo a casa l'ultima azione l'arbitro ci ha detto che era a mano ma il loro locatore è stato spinto e quindi se è stato spinto probabilmente era punizione per loro, quindi nessun rammarico